Nella prima parte di Gente Paesi abbiamo conosciuto Olmo al Brembo, ma soprattutto il nostro Renato Pedretti ci ha aiutato a conoscere meglio la vita meno conosciuta del nostro Meteoman di Roberto Regazzoni che avete conosciuto sotto un'altra veste, a casa sua. Adesso andiamo in Vallimagna, torniamo in Vallimagna. Gente Paesi in questa estate si è dato da fare per andare a scoprire tanti begli angoli di casa nostra che stanno scoprendo anche tanti bergamaschi e lombardi che in questa estate un po' particolare sono stati vicino a casa. La nostra Benedetta ha avvicinato alcuni operatori locali, sindaci e con loro ha messo insieme un piccolo percorso che è un percorso vita che tutti voi potete praticare in Vallimagna. Vediamolo nei dettagli. Grazie a tutti. Amici e amiche di Bergamo TV e di Gente Paesi, ci troviamo oggi in Vallimagna e andremo a scoprire un gioiello della natura, dello sport e delle attività della Vallimagna che è un percorso vita, un percorso vita lunghissimo che si snoda toccando vari comuni tra cui Rotaimagna, tra cui Santo Mobono, tra cui Locatello è un percorso su cui fare numerosissime attività, un percorso che costeggia anche un fiume è un percorso dove incontrare tantissime attività e tantissime proposte diverse come quella che vedete alle mie spalle. Una magnifica attività con i Lama, una passeggiata nel nostro percorso vita con i Lama. Buongiorno Lama e buongiorno Signori del Lama. Buongiorno. Come si chiamano i Signori del Lama? Io mi chiamo Wilmer Mazzoleni, dietro abbiamo Lucio e Marco. E di cosa vi occupate? Perché vedere un Lama, scusate, in un percorso vita in Vallimagna per me è una grande gioia. Ciao Lama, Lama diversi. Quanti Lama diversi? Ora ci spiegherete tutti, tutto sono curiosissima, Wilmer. Allora, esatto, noi siamo un agriturismo qui in Vallimagna, si chiama Scuderia della Valle e oltre a diversi animali classici della fattoria abbiamo aggiunto anche un po' di animali fuori dal comune. Tra questi sono i Lama, questi qui più grossi che vedete alle mie spalle, e gli Alpaca, questo qui un po' più piccolino. Insieme a loro però abbiamo anche cavalli, rapaci, mucche, dromedari, struzzi, tantissimi altri animali che si possono venire tranquillamente a visitare quando venite a trovarci. Con i Lama cosa facciamo? Facciamo queste piccole passeggiate o anche passeggiate molto lunghe dove ovviamente non si cavalcano questi animali ma vengono accompagnati un po' come fosse una sorta di cagnolini. In alternativa si può aggiungere come in quello alle mie spalle una piccola sella dove mettere giusto qualcosa da mangiare o da bere per i picnic che facciamo in quota. Quindi un'attività nella natura, questo Lama mi guarda molto intensamente, sento già un grande feeling con loro anche col mio Alpaca un po' tosato, così un po' fashion style, abbiamo l'Alpaca fashion style. Un po' barbuncino, un po' alpaca, però ragazzi è qualcosa di bellissimo perché uno in mezzo alla Valle Magna trova questi animali che posso definire esotici. Non so nulla di questi animali, illustrami Wilmer. Sono animali sudamericani, fanno parte della famiglia dei cammellidi, quindi sono parenti del cammello e del dromedario ma ovviamente non hanno le gobbe ma hanno questa folta là. Sono molto resistenti alle quote molto alte e hanno piccole zampe ottime per i sentieri più difficili e impervi di montagna, quindi si prestano benissimo al nostro territorio. Ovviamente si può recuperare la lana perché è una lana molto pregiata che si usa per fare maglioni, coperte e tutto quello che si può fare anche con la lana di pecora. La cosa bellissima, la cosa che mi sento di consigliare a tutti è il fatto di far scoprire eventualmente anche ai più piccoli, anche ai bambini, questi animali e di far vedere quanto gli animali poi possono vivere in simbiosi con la natura, possiamo camminare lungo questo percorso vita accompagnandoci con questi animali. Quindi un animale che diventa amico, un animale con cui interagire, un animale con cui giocare, confrontarsi in totale sicurezza per finalmente scoprire la natura, non solamente attraverso uno schermo ma concretamente sul nostro territorio. Quali attività Vilmer fate con i vostri fantastici lama e con, non dimentichiamo, il nostro Alpaca Fashion Style? Guarda che musino, come si chiama Luca? Allora, lui si chiama Pasqualino. Pasqualino? Sì, Pasqualino Sette Bellezze lo chiamiamo, giusto per evidenziare tutto quello che può dare di bello. È molto vanitoso, Pasqualino è un po' come me, già mi sono identificata in lui e poi vorrei portarlo a fare quattro passi insieme. Pasqualino è prenotato per Benedetta. Quindi Vilmer, tutte le attività che si possono fare? Da noi si può trovare attività di maneggio, quindi passeggiate con i cavalli, lezioni, minigiri, passeggiate trekking con i lama, corsi e avvicinamento alla falconeria perché abbiamo anche una serie di rapaci che si possono venire a visitare e più girare ovviamente liberamente per il nostro agriturismo dove ovviamente abbiamo tutti i servizi di accoglienza per il pubblico, quindi attività per bambini, campus estivi per i bambini dove farli stare con una settimana in compagnia degli animali più tutto quello che è appunto l'agriturismo, quindi familiarità, animali, buon cibo e tutto quanto si può trovare in un agriturismo. Quindi io invito tutti davvero a cercare queste attività sul territorio, a riscoprire le nostre valli, a riscoprire la natura e anche a riscoprire la semplicità di una passeggiata sul territorio dando un brio, dando uno sprint in più e quindi accompagnati con questi lama. Qual è la gestione del lama? Volevo dire manutenzione ma mi sembrava un po' inadatto un animale. Com'è la gestione del nostro lama? La gestione principale del lama è che abbia buona acqua, fieno e erba da mangiare. Ogni tanto viene tosato per alleggerirlo un pochettino dal pelo dell'anno prima che ovviamente si deposita e resta sul corpo dell'animale quindi facciamo questa tosatura per alleggerirli durante il periodo estivo. anche se in realtà la loro lana è termica quindi resiste sia al calore esterno che al freddo dell'inverno quindi hanno pochissima manutenzione come dicevi prima si si può occupare facilmente di questi animali sono molto docili, vedi che stanno tranquillamente tutti insieme l'unica cosa che non sempre sopportano è stare troppo vicini a di loro perché magari bisticciano come i bimbi o come gli altri animali. La cosa che ti spaventa così... Sì perché togliamo questo luogo comune io sono la portavoce dei telespettatori e io ho questa idea che lama sputacchiano per dirla alla francese insomma quindi Wilmer raccontaci ma perché magari per loro è anche uno strumento di difesa uno strumento sociale di relazione raccontaci il lama e lo sputo Allora lo sputo del lama che vale per tutti i cammelli sudamericani quindi alpaca compreso è solo per difesa tendono a sputare fra di loro per gerarchia il lama ovviamente che vuole comandare sull'altro sputa per tenerlo a distanza in ogni caso lo sputo non è velenoso quindi non si va all'ospedale non scioglie i vestiti perché non sputano acido e non arriva a distanze infinite è solo un po' di foglioline e saliva quindi un po' d'acqua si toglie è un deterrente tu gli dai fastidio io ti sputo spostati non darmi fastidio quindi ragazzi la chiave anche per approcciarci agli animali è la conoscenza attraverso la conoscenza attraverso le persone competenti come lo stesso Wilmer noi capiamo come relazionarci come comportarci con i nostri amici animali sempre in totale rispetto e sicurezza io sono pronta a prendere la mia Pasqualino Pasqualina Pasqualino Pasqualino Sette Bellezze vieni qua con la Benny e affrontare questa nostra passeggiata raccontami come devo prenderlo niente lo tieni così Pasqualino Pasqualino seguimi segui la bionda non guardiamoci Pasqualino non guardiamoci Pasqualino è una sensazione meravigliosa telespettatori ci fa sentire proprio connessi Pasqualino ha fame Pasqualino sei goloso come me vieni Pasqualino vieni a conoscere il percorso vita Santo Mobono Pasqualino cammina eretto con me vieni con un po' di stile e andiamo veramente a immergerci in questo percorso vita Pasqualino sei pronto? percorso vita pieno di natura di territorio siamo in Valle Magna sei mai stato in Valle Magna Pasqualino? sì ci vivi per cui rispondo da sola questo percorso vita cari telespettatori è un percorso di natura di territorio di animali e anche di sport andremo poi a conoscere un grande campione di sport che si allena proprio su questo territorio grazie a tutti e dopo aver salutato i nostri lama siamo concretamente nel nostro percorso vita siamo sul territorio della Valle Magna io sono molto fortunata perché sono tra due sindaci due sindaci della Valle Magna che mi rappresentano presente, passato e futuro di questo percorso vita abbiamo qua Ivo Manzoni sindaco di Sant'Omobono Terme buongiorno buongiorno a voi i telespettatori e abbiamo qua Giacomo Invernizzi sindaco di Corna e Magna buongiorno, grazie è un onore per me avere scoperto questo percorso vita ed essere sul vostro territorio il territorio magnifico, verde ricco d'acqua della Valle Magna veramente un luogo tutto da scoprire da tutte le parti della Lombardia lo ricordo sempre non solo rivolto a noi bergamaschi sindaco, presente, passato di questo percorso vita come nasce, dove nasce e come si sviluppa sul territorio allora il percorso vita si sviluppa sul territorio che ha più municipalità qui addirittura siamo nel territorio di Rotta di Magna fortemente evoluto dall'alunno ingegnere Locatelli Gentile a cui chiederò per iscritto al Comitato Montano che sia dedicato perché veramente ha spinto tanto per questo seguendo il percorso che aveva fatto il collettore fognario per cui brutto dire realizzando questo percorso abbiamo stato a scoprire l'intero fiume Imania perché effettivamente vedete che è veramente spettacolare è stato poi aggiunto il pezzo che da Santomobono arriva fino a Di Trubiale Clanezzo segue tutto l'andamento della vecchia condotta idrica della centrale idroelettrica che c'era per cui è veramente spettacolare ed è bello riscoprire come magari da qualcosa che non si usa più come la rete idrica nasce un percorso vita nasce un parco nasce qualcosa di ancora fruibile per i nostri cittadini quindi questo presente com'è per questo percorso vita cosa si può fare cosa si può trovare è molto presente perché il più vedete che anche le famiglie che ci sono è molto partecipato soprattutto dei bambini c'è un fiume tranquillo che è come lì con l'Imania non pericoloso per cui è molto sviluppato abbiamo anche i parchi giochi i campi a tennis proprio lungo il percorso vita per cui è accessibilissimo serve tranquillamente quelle che si parcheggiano se è una nuova area camp è fatta con l'Itamontana sul comune di Corna per cui viene sfruttato anche per questo l'idea adesso del futuro è in collaborazione col comune di Corna come vi spiegherà il mio collega di proseguire andando a riscoperta proprio di alcune caratteristiche proprio ambientali che altrimenti solo la gente del posto conosce invece così si riesce a percorrere in modo molto tranquillo anche per chi non è abituato ad andare in alta montagna o meno proprio dei posti veramente spettacolari che la natura della Valimagna ci offre quindi è un parco davvero meraviglioso io ricordo alle mie spalle questo fiume che è la corrente il ruscello in Magna diciamo ed è davvero un luogo di pace un luogo di natura sindaco Sant'Omobono come si pone rispetto a questo percorso vita? ne è orgoglioso ne è sostenitore? sicuramente sì dobbiamo definire perché abbiamo avuto i problemi con il centro sportivo per causa Covid che è ancora chiuso per ripartire anche per dare servizi chi proprio si approccia qui vede che ci sono i barbecue per chi vuole farlo per noi ovviamente è un forte indotto per la famiglia che non dico che deve venire per forza a fare chissà che cosa ma giustamente che i bambini far conoscere l'ambiente vallare è l'esempio di questo percorso vita di questo percorso che va ad unire i più comuni la forza di più comuni crea poi l'eccellenza crea poi risorsa io la ringrazio e dal presente caro sindaco vado a parlare con Giacomo del futuro perché so che Giacomo lei ha un'ambizione ha un sogno su questo percorso vita che coinvolge il suo comune l'ambizione è più legata a tutto il territorio che è quello di promuovere il territorio del comune di Corna per quanto riguarda me come sindaco ma l'idea è proprio di promuovere la Vallimagna valorizzando quelle che sono le risorse naturali architettoniche culturali che il territorio comunque possiede noi siamo partiti da fatto da questo nostro programma come amministrazione e abbiamo in prospettiva due interventi significativi proprio sul territorio del comune di Corna che vedono coinvolti il percorso video ma in particolare i comuni anche limitrofi che copartecipano sono partner dei nostri due progetti il primo progetto vede di fatto va bene noi ci troviamo in un luogo strategico perché è il punto di confine tra il territorio di Rota Santomobono e Corna Cornaimagna il primo progetto prevede la realizzazione attraverso un finanziamento del GAL gruppo azione locale Valle Imagna Valle Brembana vede la realizzazione di un ponte che collegherà il torrente Valle Gandino che noi vediamo proprio qua vicino che permetterà alla popolazione di una zona del territorio di Santomobono e Magna di arrivare anche sul nostro territorio di Cornaimagna vedrà la realizzazione di attività ricreative per bambini e per famiglie la realizzazione di tutto un percorso il punto centrale sarà sul ponte che collega il percorso vite al territorio di Corna Cornaimagna come punto di accoglienza e di orientamento sul territorio vedrà la realizzazione di una casetta di uno spazio di accoglienza con dei tavoli la possibilità di avere delle biciclette di posizionare delle biciclette o di prendere delle biciclette un totem informativo che orienterà su tutto il territorio dei comuni di Santomobono Corna Locatello e Fulpiamo accanto a questo con dei finanziamenti avuti da Regione Lombardia andremo a realizzare anche della sentieristica un primo sentiero che vede coinvolti il comune di Cornaimagna il comune di Santomobono il comune di Locatello sarà definito il sentiero dei ponti e delle santelle sono sette chilometri di percorso un percorso accessibile a tutto molto bello che attraversa contrade e territori naturali e sarà sicuramente un altro dei progetti interessanti che da qua questa seconda metà dell'anno all'inizio dell'anno prossimo andremo a realizzare Sindaco Invernizzi lei ha detto tutto io la ringrazio è davvero meraviglioso vedere la volontà di valorizzare ciò che i piccoli comuni anche hanno a me l'idea di una spiaggetta a Cornaimagna fa già impazzire sono sicura che torneremo a trovarla e ci troviamo adesso grazie ancora Sindaco su una pista d'atletica perché è un percorso vita deve essere un percorso anche di grandi atleticità di grandi campioni di atletica di grandi campioni e andremo ora con grande onore anzi un po' mi preparo a conoscere Alex Baldaccini campione di corse in montagna siamo ancora sul nostro percorso vita mantengo una andatura atletica perché sento di stare per incontrare un grande campione che si sta proprio allenando su questo territorio su questa zona ecco chi troviamo si sta allenando con il piglio del grande atleta quale è e per me è un grande onore conoscere Alex Baldaccini 18 volte la maglia azzurra la maglia della nazionale Alex un bergamasco che corre in un territorio bergamasco si ciao a tutti è un piacere essere qua è sempre bello correre su questi percorsi che ho scoperto da poco in realtà Alex so che sei un grande campione ripeto 18 volte la maglia azzurra facente parte della federazione italiana di atletica leggera per la categoria corsa in montagna che è una categoria della federazione al pari del lancio del peso degli ostacoli o dei mille metri quindi qual è la tua carriera qual è il tuo percorso sportivo qual è il tuo percorso di vita sì allora diciamo che io ho iniziato un po' con la corsa in montagna perché è venuto naturale io sono di San Giovanni Bianco quindi vivo in mezzo alle montagne è stato un passo abbastanza facile poi in realtà ho provato un po' tutte le discipline dell'atletica di corsa di fondo insomma dalla pista al cross alla strada però ecco quella che mi piace di più che mi dà più soddisfazioni emozioni è sicuramente la corsa in montagna quindi ho deciso poi di proseguire su questa strada e ormai sono tanti anni che faccio parte del gruppo azzurro e mi destreggio in questa disciplina insomma so che hai vinto anche una coppa del mondo raccontaci quell'esperienza quell'emozione sì esatto nel 2017 ho vinto la coppa del mondo di corsi in montagna la coppa del mondo in pratica è un circuito di 6-7 gare che si disputano nei paesi in vari paesi dell'arco alpino e vengono sommati i punteggi di ogni gara e alla fine si fa una classifica generale nel 2017 dopo tanti tentativi in realtà sono riuscito a vincerla ed è stata una bella emozione sicuramente è stato un po' un coronamento il mio inseguimento a questo trofeo è stato un po' coronato da questa vittoria le emozioni sono sempre forti la coppa del mondo quell'anno lì è stata incerta fino all'ultima gara e quindi me la sono sudata però alla fine è andata bene quando le cose sono sudate poi sai danno ancora più soddisfazione sicuramente una vittoria meritata Alex com'è la tua vita la tua vita ad atleta noi ricordiamo sempre che magari la corsa in montagna fa parte di quelle federazioni un po' sport minori quindi invitiamo tutti a sostenere a seguire a partecipare lanciamo questo appello non esiste solo il calcio in Italia diventiamo appassionati anche di altri sport di altri sport onorevoli e pregiati e preziosi fatti di persone di grandi atleti come la corsa in montagna Alex la tua vita come si struttura come si strutturano le tue giornate qual è la tua occupazione principale? sì allora purtroppo come hai detto tu non siamo professionisti e quindi abbiamo meno male tutti un'occupazione lavorativa io faccio il fisioterapista ho uno studio a San Pellegrino Terme però ecco poi cerco sempre di ritagliarmi gli spazi per l'allenamento chiaramente i sacrifici sono tanti perché chiaramente questo è uno sport di fatica e quindi diciamo che non è poi solo l'allenamento in sé che magari porta via quell'ora due ore tre ore al giorno ma poi sono tutte le restanti 24 ore tutti i giorni dell'anno che uno deve fare la vita da atleta quindi diciamo che serve anche il supporto delle persone care che ti stanno attorno perché magari non è facile trovare persone che capiscano i sacrifici che servono per fare questa disciplina e quindi ti devono supportare quando magari il sabato sera invece di stare in giro devi andare a letto presto perché c'è una gara non è così semplice scontato però ecco io ho fatto tutti questi sacrifici e continuo a farli perché poi le emozioni diciamo questi sacrifici vengono ripagati ampiamente da quello che vivi sul campo e quindi sono molto contento di aver fatto questa vita questa scelta e di continuare a farla finché riesco insomma quindi noi ricordiamo tutti che su questo percorso vita in Valle Magna è possibile anche correre magari incrociare un campione come Alex se non abbiamo la fortuna di incrociarti mentre corriamo sul percorso vita o noi semplicemente camminiamo ammirando il paesaggio dove possiamo trovare Alex come possiamo conoscerti metterci in relazione con te anche per avere dei consigli anche per avere dei tutorial ma sì allora ormai al giorno d'oggi è facile perché fra social network intercity internet eccetera io sono abbastanza presente su tutti i canali anche su youtube e quindi mi potete trovare facilmente poi se invece mi volete trovare di persona sicuramente la valle brembana la zona della media valle brembana è facile incontrarmi sulla ciclabile o sui sentieri di quella zona lì e diciamo che ultimamente sto anche esplorando un po' di più le montagne perché paradossalmente negli anni scorsi ho sempre seguito delle tabelle di allenamento abbastanza rigide che davano poco spazio a interpretazione magari ti trovavi sempre a fare un po' le stesse cose da quest'anno invece sono complici anche il lockdown e la situazione che abbiamo vissuto sono un po' più libero diciamo e sto esplorando un po' di più posti nuovi come ad esempio questo qua questo bellissimo percorso che c'è in valle magna e sicuramente tornerò a farlo perché ho già visto varie diramazioni che voglio esplorare insomma e la valle magna è un territorio che conosco ancora poco e quindi perché no anche qua trovare nuovi percorsi e nuove sensazioni positive che bello anche vedere un atleta che ha ampie i propri orizzonti un atleta che non si limita a quello che conosce ma cerca di esplorare forse questa è anche un po' la caratteristica dell'essere un vincente Alex io sono pronta a fare circa 5 metri di corsa con te data la mia nota agilità motoria nella corsa saluto tutti i telespettatori con Alex di Bergamo TV e di gente paesi da questo percorso meraviglioso ricordiamo in valle magna che attraversa numerosi comuni partendo da Santo Mobono pronti ready steady go